Ordine dei Medici e Sindacato Cimo Nazionali chiedono la presenza dell'esercito a difesa degli operatori sanitari. La regione è pronta a intervenire su vigilanza e videosorveglianza. L'assessore alla salute Riccardi ha incontrato le due dottoresse aggredite a Udine. Una è pronta a lasciare la professione medica. Niente ascensore, un montacarichi obsoleto il cui utilizzo va prenotato in anticipo. La stazione dei treni di Cervignano del Friuli è di difficile utilizzo per i disabili motori. Lo denuncia TV12, l'associazione Idea. Tavolo aperto tra comune RFI, ma all'orizzonte la situazione al problema ancora non c'è. 220 esuberi in tutta Italia per Electrolux, quasi 80 tra Porcia e Pordenone. L'intesa con i sindacati non prevede licenziamenti, ma incentivi all'esodo. Alla Cimo Lai, perdite da 315 milioni, causa derivati. Una banca d'affari australiana fa causa, ma ci sono player pronti a offrire sugli attivi. Uccise i genitori e gettò i cadaveri nell'Adige, denunciandone la scomparsa. Un duplice omicidio, quello portato a termine lo scorso anno a Bolzano da Benno Neumar, raccontato da una penna friulana, il giovane giornalista Matteo Macuglia. Buonasera a tutti i telespettatori di TV12. Dunque il problema dell'aggressione al personale sanitario ancora al centro dell'attenzione del dibattito regionale, ma anche nazionale. Oggi dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici è arrivata la richiesta di maggiori controlli, di maggiore vigilanza della presenza anche dell'esercito e delle forze dell'Ordine, in particolare nei presidi ospedalieri a maggior rischio, magari perché in aree più disagiate. Anche dal sindacato dei Medici Cimo è arrivata una richiesta del genere, l'attuazione di una sorta di operazione ospedali sicuri, così come fatto in passato e tuttora in corso, con l'operazione strade sicure. Dunque più controlli per tutelare il personale sanitario. Ed è proprio di questo che parliamo anche questa sera in apertura nel nostro Tg, dopo che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato il caso dell'aggressione alle due guardie mediche che erano in servizio presso l'ospedale Gervasuta a Udine. Ci colleghiamo con la nostra truppa esterna, con Francesca Santoro. Allora Francesca, buonasera, vengo subito da te perché so che hai raccolto alcune interviste che ci aiutano a ricostruire e raccontare la situazione e gli sviluppi della giornata di oggi. Sì, buonasera Angela. Come hai detto tu, continuo a tenere banco la questione delle aggressioni al personale medico e sanitario dopo che sabato due dottoresse sono state aggredite fuori dal Gervasuta dove appunto stavano svolgendo attività di guardia medica. Oggi da parte della federazione Cimo-Fesmed è arrivata la richiesta di ricorrere al progetto ospedali sicuri, quindi esercito o forze dell'ordine a presidiare gli ospedali e i luoghi della sanità per evitare appunto che si ripetano episodi di questo genere. Noi abbiamo parlato con il rappresentante regionale della federazione che ha un po' ridimensionato la questione dell'esercito. Lui parla di volontario, di protezione civile e comunque il principio è lo stesso. Vediamo l'intervista che ci ha rilasciato. Ho sentito la proposta del Presidente Quici che è il nostro Presidente nazionale ovviamente è una battuta che ha gettato nell'arena di questo momento difficile che però ha una piccola parte di verità. Se noi guardiamo paesi a noi vicini, occidentali come il nostro, le cliniche hanno purtroppo il poliziotto come il poliziotto sta in banca a difendere da malintenzionati. Il cambiamento della nostra società con l'avvento di anche molte persone che vengono da culture diverse, lontane dalla nostra, purtroppo comporta maggiore pericolo di questa cosa. Il fatto che poi molto spesso il sistema sanitario risulti inadempiente, esasperi, l'utenza, determina ancora questa cosa. Il fatto che ci sia una cultura denigratoria anche nei confronti di operatori sanitari che in alcuni casi vengono descritti come eroi ma molto spesso si parla di malassanità, si portano esempi magari anche denigratori proprio nei confronti di uno singolo ma che beccano tutta la categoria, crea un ambiente che è ovviamente il pabulum dove possono verificarsi queste cose. Io penso che potrebbe essere semplicemente utile pensare all'apporto di volontari come della protezione civile che possano far compagnia alle nostre dottoresse quando fanno il turno di notte, quando sono da sole perché certamente è sempre pericoloso lavorare da soli anche per un medico maschio come può essere un chirurgo, un ortopedico. Io stesso nella mia carriera mi sono trovato ad affrontare situazioni pericolose. Qualche volta la violenza non è semplicemente fisica ma anche verbale e molto spesso è, anche quando c'è stato il periodo dell'innovax, vi ricorderete, abbiamo assistito a degli spettacoli veramente indegni di una società civile semplicemente perché magari qualcuno voleva avere un certificato, è successo anche a me, è venuto uno nel mio studio pretendendo un certificato per essere generato dal vaccino perché lui era un imprenditore, aveva bisogno di questa cosa per lavorare perché aveva le vene varie cose. Il vaccino invece a lui faceva bene, come ha fatto bene a tante altre persone. Per cui mi sono trovato, se voi andate sul mio sito, troverete anche la persona che mi denigra in questo modo e continuo a essere lì perché è permesso questa cosa. La violenza ha molte facce e va combattuta da prima di tutto con la cultura, col ben dire, ben fare, ben pensare. Poi ci vogliono anche qualche volontario che dia una mano, che faccia compagnia a noi che lavoriamo lì, arrivare al fucile, all'esercito, insomma speriamo ancora di essere lontani da una situazione così grave. Della proposta ospedale e sicure abbiamo parlato con il vice governatore Riccardi che abbiamo incontrato nel primo pomeriggio al Gervasutta dopo l'incontro con le due dottoresse aggredite, Adelaide Andriani e Giada Veni. In particolare Adelaide, a cui sono state strette le mani intorno al collo, quindi che ha subito proprio un'aggressione fisica da parte del soggetto in questione, ha detto di non voler più continuare a fare il medico, ha detto che era una decisione che maturava già da un po' di tempo, questo episodio l'ha fatta decidere e quindi intraprenderà un'altra strada perché non vuole trovarsi in altre situazioni del genere, ha preso troppa paura. Abbiamo quindi chiesto al vice governatore Riccardi come è andato questo incontro, cosa si può fare effettivamente per migliorare la sicurezza del personale sanitario. Vediamo l'intervista poi lì nello studio. Oggi l'incontro con le due dottoresse aggredite fuori dal Gervasutta. Cosa vi siete detti e cosa potete fare nel concreto? Ci siamo detti, la mia preoccupazione intanto era capire come stavano. Le ho trovate bene, stanno bene, questa è la cosa più importante. Poi abbiamo ragionato su quello che è accaduto, io penso che le due soluzioni immediate e breve siano quelle di garantire una maggiore sorveglianza e una migliore vigilanza. Queste sono le due misure a breve. Poi naturalmente c'è anche un modello complessivamente da rivedere, su questo l'azienda sta lavorando. Il sindacato Cimo chiede che l'esercito presidi le guardie mediche e gli altri luoghi della salute. L'altro giorno è accaduta un'aggressione al CSM a Trieste, quindi sono tanti posti a rischio. È fattibile secondo lei? Io penso che qualsiasi soluzione, anche a breve e straordinaria, possa essere utile. Non lo so se poi ci siano le condizioni per questo. Potremmo approfondire se ci fossero le condizioni. Fermo restando che noi non possiamo affidare a un servizio primario come quello della sanità a misure straordinarie che rispondono a logiche del momento. Quindi se questa potrebbe diventare una condizione del momento, non possiamo pensare di affidarci a misure di questo genere. Il sistema deve essere solido e deve guardare le soluzioni stabili. E tra l'altro oggi c'è stata una nuova aggressione al centro di salute mentale di Via Gambini a Trieste. Un utente del centro ha spinto contro il muro procurando un trauma alla spalla e uno alla mano l'operatrice sanitaria che gli aveva appena somministrato la terapia serale. E adesso andiamo a Cervignano del Friuli per parlare della stazione ferroviaria, di difficile utilizzo per i portatori di handicap. E quanto ci ha segnalato un nostro telespettatore, il presidente dell'associazione Idea Onlus, impegnata da tempo nell'ambito della disabilità. Allora vediamo il messaggio che ci ha inviato. Sono Stefano Baldini, presidente dell'associazione Idea Odivi. Abbiamo segnalato la situazione della stazione di Cervignano del Friuli che fino ad oggi, 2023, è indecente. Infatti una persona in carrozzina, per poter prendere il treno precedentemente, deve prenotare un apposito montacarichi per essere posta, caricata sul treno. Questo montacarichi è vetusto e la situazione è alquanto pericolosa. Inoltre il fatto di dover precedentemente richiedere, comunicare che si deve prendere il treno è una grossa discriminazione verso le persone con disabilità. Cosa che, per le persone normodotate, non è indispensabile. Ringraziamo l'Evittente per questo importante servizio e speriamo che qualcosa giunga ai vertici di Ferrovia dello Stato, RFI. Dopo aver ricevuto questo messaggio, Monica Nardini è andata sul posto per capire bene la situazione. Alla stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli non è disponibile un ascensore. Questo crea ovviamente complicazioni, disagi alle persone, in primis con disabilità anche gravi, che hanno garantito, sì, dal personale di RFI il servizio di assistenza, però questo richiede una prenotazione con un ampio anticipo. E questa mancanza dell'ascensore crea ovviamente difficoltà anche chi ha difficoltà motorie o si trova a trasportare, a portare con sé un bagaglio voluminoso o pesante. Lei da mamma è preoccupata per il peso che deve portare sua figlia, anche per prendere il treno? Un po' sì, perché non c'è un ascensore che andrebbe bene, più che altro per velocizzare, anche dato che le valigie sono anche abbastanza pesanti per quello, più che altro. Anche un anziano, magari io riesco a darle una mano, una persona di 80 anni anche, insomma, è un po' più in difficoltà. In questo caso la possibilità per raggiungere i binari anche 2, 3, 4, dove spesso passano i treni, costituita da appunto questo sottopassaggio che vediamo e quindi, insomma, molti residenti nel comune e anche le persone con disabilità già da tempo, negli anni, hanno richiesto che venga creato, realizzato un ascensore. Sindaco, come mai alla stazione ferroviaria non c'è ancora un ascensore, malgrado le richieste da anni dal territorio di averne uno? Riguardo al problema nello specifico, noi proprio il 20 avremo un incontro con RFI e tra gli altri temi affronteremo proprio quello dell'ascensore che manca presso la stazione ferroviaria di Celignano. Per quanto ci riguarda abbiamo, e lo abbiamo scritto nel nostro programma, una particolare sensibilità per il tema delle persone con disabilità e a questo proposito voglio ricordare che siamo in fase di predisposizione del PEBA che adotteremo come piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche con un ITER che inizierà già nei primi mesi di quest'anno. Voi già in agosto avete avuto un incontro interlocutorio? Sì, ad agosto il tema era stazione intermodale, quindi scambio gomma-rotaia e anche in quell'occasione abbiamo rilevato la necessità di attivare una progettazione per gli ascensori abbiamo rilevato la criticità di questo tema che oggi, come ha sottolineato molto bene Stefano Baldini crea un evidente disagio ma soprattutto un'evidente discriminazione delle persone con disabilità che non è accettabile. Passiamo alla cronaca adesso. Il questore di Udina ha emesso otto d'aspo nei confronti di tifosi dell'Atalanta a seguito di quanto accaduto nella sfida contro l'Udinese dell'ottobre scorso. Gli ultra-orobici si erano spostati irregolarmente da un settore all'altro dello stadio e avevano utilizzato anche dei fumogeni. Le persone destinatari e dei provvedimenti sono tutte residenti in provincia di Bergamo e oltre a un cinquantenne e due trentenni hanno tutte un'età compresa tra i 20 e i 24 anni. Per uno dei trentenni, già destinatario in passato di un d'aspo emesso dal questore di Bergamo il nuovo provvedimento ha una durata di sei anni. Un ulteriore d'aspo a un supporter atalantino in via di definizione avrà una durata non inferiore a cinque anni in quanto il giovane nel frattempo è stato raggiunto anche da un altro divieto di accesso alle competizioni sportive erogato dal questore di Milano in seguito agli scontri tra tifoserie avvenuti a San Siro nel maggio scorso. Ancora un incidente sulle piste da sci questa mattina sul Piancavallo una donna è caduta mentre faceva snowboard allertata dal soccorso piste la Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso che ha trasportato la donna in codice giallo quindi grave ma non in pericolo di vita all'ospedale di Udine. E non ha fatto tempo a entrare nel nuovo reparto di ostetricia e ginecologia la mamma che ieri notte attorno all'1.30 ha dato alla luce il proprio bimbo nel parcheggio dell'ospedale mamma e papà erano partiti in auto da casa preavvisando al telefono l'ostetricia del loro arrivo ma giunti nel parcheggio dell'ospedale si sono accorti che il piccolo stava per nascere con l'aiuto del personale sanitario chiamato sul posto il bimbo è venuto alla luce subito dopo in auto in prossimità del padiglione 15 mamma e bimbo sono stati accompagnati in clinica e stanno bene e questa mattina i vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti per una piccola frana distaccatasi dal costone che costeggia la regionale 251 in prossimità del ponte sulla diga di Ravedis la parte più cospicua del materiale franato è stata trattenuta dalla rete di contenimento ma una piccola parte è finita anche sulla strada vigili del fuoco e personale di FVG strade hanno lavorato assieme per la rimozione del materiale per ristabilire la sicurezza e riaprire la strada andiamo adesso ad Amaro dove questa mattina la caserma della polizia stradale è stata intitolata alla memoria del vice sovrintendente della polizia Maurizio Toscano morto esattamente un anno fa investito da un automobilista mentre stava rilevando un incidente stradale sulla A23 sentiamo le interviste oggi è una giornata importante perché ricordiamo un collega caduto in servizio ma ricordiamo soprattutto il suo esempio ricordiamo il suo sacrificio che è monito, memoria, sprono a far bene le scolaresche sono venute il vescovo, il signor prefetto, il direttore del servizio, il signor questore il sindaco di Amaro, la nostra AMPS per fare famiglia, fare festa l'esempio per la comunità di spirito di sacrificio portato all'estremo viene ridato alla comunità tra virgolette amplificato, quintuplicato quindi siamo gradi di fare ancora famiglia e il ricordo lo porteremo sicuramente anche attraverso la lettura della targa nel cuore in maniera permanente abbiamo celebrato oggi una giornata che ha un valore non solo simbolico ma assolutamente di forte sostanza l'intitolazione di una struttura, di una caserma a un nostro operatore deceduto in servizio vuole significare il perpetuare il ricordo di Maurizio Toscano appunto nella struttura che l'ho ospitato per tanti anni e quindi perpetuare il suo ricordo con i colleghi che attualmente vi prestano servizio e che con lui hanno condiviso anni di servizio e con le nuove generazioni di poliziotti che approderanno a questa struttura e che saranno portati a chiedersi chi era Maurizio Toscano un uomo, un marito, un padre, un operatore di polizia che ha assolto con dedizione al suo dovere fino a sacrificare la propria vita è un ricordo molto positivo di Maurizio fin da quando ha preso servizio qua da noi si è subito dimostrato una persona molto positiva e molto capace collante anche nel modo di rapportarsi con i colleghi e soprattutto professionale una persona molto preparata siamo molto onorati del gesto che ha fatto la polizia che ha dedicato questa caserma a nome di mio fratello che purtroppo ci ha lasciato in mente lavorava siamo molto, come dicevo appunto, onorati e siamo soddisfatti anche degli onori che gli vengono compessi e anche in memoria per il suo futuro grazie di tutto e a chi lo ricorda parliamo adesso della situazione della Cimolai una banca d'affari australiana ha fatto causa all'azienda per 49 milioni di dollari di operazioni non pagate intanto l'azienda registra un buco di 315 milioni di euro per gli investimenti sui derivati sentiamo il servizio di Daniele Boltin l'ultima novità legata alla crisi finanziaria della Cimolai arriva dall'Australia la banca d'affari McQuire ha fatto causa all'azienda pordenonese richiedendo 49 milioni di dollari a titolo di copertura per la cessazione del rapporto tra l'istituto di credito e l'impresa la notizia è stata diffusa da Bloomberg secondo cui Cimolai nel giro di investimenti sui prodotti derivati non avrebbe effettuato dei pagamenti relativi alle transazioni la richiesta di denaro è solo l'ultima in ordine cronologico sono già arrivate diverse richieste da parte di broker e banche d'affari internazionali per un importo complessivo di 34 milioni di dollari altri istituti come Deutsche Bank NatWest e Morgan Stanley potrebbero invece far partire le loro richieste a breve per quanto riguarda la situazione patrimoniale della società secondo quanto emerge dai documenti depositati in tribunale il risultato economico riguardante i contratti derivati registra una perdita complessiva di 315 milioni di euro alla porta ci sarebbero alcuni gruppi industriali come WeBuild, Pizzarotti e Rozzani Decker pronti a presentare un'offerta sugli attivi della società la famiglia Cimolai però non molla e per ora non sembra intenzionata a lasciare e punta alla ricapitalizzazione del gruppo Dalla Cimolai alla Electrolux è stato firmato un accordo quadro a livello nazionale per la gestione della riduzione dei costi dell'Electrolux con una riorganizzazione del lavoro la riduzione del personale che prevede 220 esuberi a livello nazionale ma esclude i licenziamenti lo scrive in una nota Gianluca Ficco segretario nazionale Wilm responsabile del settore elettrodomestici le uscite sono suddivise per stabilimento e qualifica a Porcia e Pordenone sono previste 36 uscite nel reparto produzione e 40 uscite per quanto riguarda lo staff sono stati fissati degli incentivi all'uscita dal lavoro che vanno dai 3.000 euro per chi ha i requisiti per la pensione ai 72.000 euro per chi non aggancia la pensione entro due anni di naspi tra le richieste poste dal sindacato anche un contenimento dell'aumento dei prezzi la costituzione di un cantiere di verifica della nuova organizzazione del lavoro la costruzione di un bacino di chi ha lavorato in stabilimento negli ultimi anni affinché abbiano un diritto di precedenza sulle future assunzioni le persone che appunto negli ultimi anni hanno già lavorato in Electrolux la proprietà si è riservata di rispondere alle richieste del sindacato segnalando che la competitività è essenziale per l'investimento in Italia la discussione proseguirà il 17 gennaio e adesso parliamo del porto di Trieste perché è stato presentato oggi il servizio che collega lo scalo Giuliano all'interporto di Pescara scelto da Onda Italia per trasportare la componentistica in arrivo dall'Asia e destinata allo stabilimento che si trova in Val di Sangro da parte del presidente del porto di Trieste Zeno D'Agostino è arrivata la soddisfazione per l'avvio di questo nuovo servizio di trasporto ma c'è anche un po' di timore per il blocco della produzione in Cina a causa del Covid e che potrà avere degli effetti sui porti di tutto il mondo non solo quello di Trieste dal prossimo mese di febbraio sentiamo Il porto di Trieste è scelto da Onda Italia come perno intermodale per favorire il trasporto merci via ferrovia dal Farist all'Abruzzo lungo la dorsale adriatica Si tratta del servizio presentato quest'oggi a Trieste e che collega lo scalo Giuliano all'interporto di Manopello Pescara per il trasporto di componentistica in arrivo dall'Asia e destinato allo stabilimento di Atessa in Val di Sangro Una vera e propria saetta adriatica con il treno merci che si rivela più veloce del tir e che ha consentito in meno di tre mesi dall'inaugurazione a metà ottobre di raddoppiare il servizio un company train esclusivamente dedicato a Onda Italia che trasporta una quarantina di container a tratta coprendo la distanza in 12 ore circa con tempi dimezzati rispetto al trasporto su gomma togliendo circa 70 camion dalla strada ogni settimana Un'alternativa sostenibile dunque per connettere il centro e sud Italia con il nord-est consentendo al porto di Trieste di confermarsi non solo attrattore di relazioni con importanti player internazionali ma anche promotore di nuovi traffici e legami con il tessuto industriale del nostro paese Ora l'intenzione è di promuovere questa iniziativa con un ulteriore treno aperto rivolto anche ad altre imprese per ampliare il numero di connessioni settimanali La stessa Onda è interessata ad allargare ad altri clienti il servizio anche se, come sottolinea a margine dell'incontro il presidente del porto di Trieste Zeno D'Agostino non manca il timore per il blocco della produzione in Cina a causa Covid Se la cosa va avanti così faremo settimane in tutti i porti del mondo non solo a Trieste con numeri più bassi rispetto a quelli a cui siamo abituati A questa situazione ha osservato si aggiunge il fatto che non è un momento economico positivo e ne risente anche la catena logistica nonostante l'hanno appena concluso abbia registrato un andamento positivo almeno per il porto di Trieste record sui container record sui ro-ro e nonostante non ci siano dati certi possibile anche un record per quanto riguarda i treni Più in generale va rilevato che i collegamenti dello scalo triestino verso l'Italia coprono 5 regioni Friuli-Venezia-Giulia Veneto-Lombardia Marche e Abruzzo con 15 servizi a settimana è stato chiamato lascia passare prepusnizza in ricordo di quel documento che fino alla caduta del confine consentiva a chi abitava proprio sul confine con la Slovenia di oltrepassare i valichi confinari senza altri documenti diciamo è stato chiamato proprio così il museo che è stato allestito a Gorizia al valico del Rafut nella casa che ospitava la polizia di frontiera e la guardia di finanza lascia passare prepusnizza un museo laboratorio utilizzando una casetta storica sul confine sul valico del Rafut questo era proprio il confine dove trovavamo la polizia di frontiera dove trovavamo la guardia di finanza conosciutissimo proprio perché è un valico particolarmente frequentato affettuosamente era definito questo valico il checkpoint 50 metri di qui il manufatto omologo cioè perciò quello di confine del Rafut da parte slovena ospita da diverso tempo il museo del contrabbando si riesce attraverso gli spazi esterni e anche quelli interni a ripercorrere la storia del novecento perciò davvero un luogo in più per far conoscere la storia ai turisti ma anche ai goriziani è il tentativo di raccontare un territorio attraverso le voci e le memorie delle persone che l'hanno vissuto quindi abbiamo da tanti anni come associazione 4704 raccolto le testimonianze dei goriziani le abbiamo incrociate fra di loro e ne abbiamo ricavato un racconto plurale un mosaico di ricordi di racconti che abbiamo restituito ai goriziani ai visitatori ai turisti che verranno da qui fino alla capitale europea della cultura con diverse installazioni 4 oggetti che attivano se appoggiati su uno speciale tavolo i racconti e le immagini che ci sono state donate dai testimoni sono per esempio un lascia passare un vero lascia passare un busto di Tito un libro di Basaglia un pacchetto di sigarette e un modellino di un carro armato sono oggetti iconici simbolici legati a 5 momenti e luoghi chiave della storia di questa città di questo territorio e raccontiamo poi il 1991 quando per l'ultima volta abbiamo visto i carro armati qui a Gorizia adesso parliamo di un altro racconto il racconto di uno dei fatti di cronaca più sconcertanti degli ultimi anni l'omicidio dei genitori da parte del figlio Benno a Bolzano l'uccisione di Peter e Laura Neumar esattamente un anno fa Matteo Macuglia un giovane giornalista udinese e già nostro collaboratore ha dato alle stampe il male dentro edito da Rizzoli che racconta proprio questa storia una storia seguita da vicino dallo stesso Matteo Macuglia per la trasmissione quarto grado di Rete 4 allora vediamo una piccola anticipazione dell'intervista che abbiamo realizzato con lui il racconto che ho fatto per quarto grado che è un racconto che ha una natura settimanale quindi ogni settimana andiamo ad aggiungere un pezzetto a questa storia forse aveva lasciato qualcosa da parte e mi sono reso conto anche quando poi ho cominciato a scrivere questo libro che leggerlo tutto in un'unica soluzione è come venire investiti un po' da una marea questa marea di fatti che accadono uno dietro l'altro e che portano quasi in maniera inevitabile a questo omicidio e poi c'è tutto quello che segue insomma perché è stata una storia veramente incredibile sia prima quello che ha causato l'omicidio sia dopo quello che questo assassino ha fatto per provare a coprire le proprietà e provare a evitare le conseguenze di quello che ha fatto questa vicenda poi un ruolo centrale l'ha avuto anche la sorella Madè tu hai avuto modo di incontrare sia Benno sia Madè ecco due personaggi in qualche maniera anche agli antipodi la seconda telefonata avviene il 14 di gennaio erano passati dieci giorni a quel punto pensare che Laura e Peter Neumann fossero ancora vivi era impossibile avere davanti questo ragazzo che quasi ci scherzava mi aveva fatto veramente molta impressione e il male dentro poi è quel male che si è che ha avuto radici nella famiglia che ha avuto radici dentro di lui ed è anche una citazione proprio di questo ragazzo una frase che lui dice durante la sua confessione agli inquirenti e Madè è una persona incredibile perché nel momento peggiore della sua vita nel momento più duro quando ha capito che proprio suo fratello aveva ucciso i suoi genitori e lei l'ha capito immediatamente alla prima telefonata che fa al fratello capisce che lui le sta mentendo perché Benno le dice una bugia che lei smaschera subito e lei invece che poter vivere il dolore che avrebbe provato chiunque incredibile inimmaginabile di una situazione del genere deve farsi forza e comincia a chiamare i carabinieri per spiegargli come stanno le cose che la persona da attenzionare è proprio suo fratello è proprio Benno e insomma lei si deve vestire immediatamente nei panni del detective in una situazione che per chiunque è francamente inimmaginabile e questa sera alle 20.45 potrete vedere l'intervista integrale a Matteo Macuglia per continuare a parlare di questo caso e di questo libro in prima serata invece alle 21.15 appuntamento con la musica con il documentario su Michael Jackson e alle 22.30 l'ultima edizione del TG il TG della Notte ci fermiamo qui per il momento grazie come sempre per la vostra attenzione e buona serata a tutti voi Amici di Udinese TV un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo ci attende un giovedì con ampi spazi di cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia al più solo qualche velatura di passaggio e clima molto mite nelle ore centrali della giornata si potranno infatti anche sfiorare i 13-14 gradi ma vediamo ora nel dettaglio Pordenone Udine sole protagonista nella giornata di giovedì sempre con qualche velatura di passaggio e temperature in ulteriore rialzo di qualche grado valori massimi infatti che saranno compresi tra gli 11 e i 13 gradi ampi spazi di cielo sereno anche su Gorizia e Trieste con temperature anche qui stabili o in lieve rialzo di qualche grado punte massime che potranno sfiorare i 13 gradi dettagli maggiori sulla vostra località vi attendono come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo grazie a tutti grazie a tutti